Il Rapport EOS Il Rapport EOS Il Rapport EOS Il Rapport EOS Riccetto. Ho sentito un rumore. Resta qui. Si chiamava Freddy Russell. Lui era un ricercato. E lei è un onesto cittadino. A volte vincono anche i buoni, sa? E questo? Ebbè, non ho sparato a lui. Si chiama Shonk. Adesso torni a casa e mi lasci lavorare, ok? Hai fatto secco uno, eh? Sì, ma non ne vado fiero. Più tardi devo parlare con la polizia. Lo sa tutta la scuola. Che succederà ora? Seppelliamo quella merda. Ha una famiglia. Ha un padre, ad Unsfield, in prigione. Ma è uscito il mese scorso. Signor Russell, dispiace. Lei è Dean, vero? Suo figlio. Somiglia tutto a lei, vero? È entrato! È qui! Tornate in macchina. Oh mio Dio! Per me voleva mettere paura. Solo questo. Lo prenderemo. Non preoccupatevi. Non è lui, chiaro? E adesso che cosa facciamo? Mi chiamo Jim Bob Look. Questo è di sei settimane fa. C'è qualcosa sotto. Hanno usato la mia famiglia come esca. Io voglio sapere perché. Bene, ragazzi. Inizia lo spettacolo. Non è interessante, ragazzi. No, non è interessante. Ancora! Non è interessante.